Attraversata da un intenso traffico, Montà sembra pagare lo scotto di un quartiere che rischia di essere di passaggio persino per chi ci abita. Le voci dei residenti, apparentemente variegate, disegnano in realtà lo stesso quadro di un rione con poche occasioni di socialità e la mancanza di alcuni servizi che chiede al comune più attenzione. Passi Verdi, un distretto sanitario più comodo, visto che bisogna andare in Vieta e Manza e per l'anagrafe bisogna andare in centro, in Vieta e Manza ancora. Non ci sono più servizi? No, manca questo magari così, se possibile per gli anziani. Ti mancherebbe qualche punto di integrazione dal punto di vista della socialità, per i giovani soprattutto e anche per il dopolavoro o per il tempo libero, quello sì. Gli apri supermercati dappertutto e allora la zona, scusa, è la zona di meno lavoro che purtroppo qui di zona non staccia la zona, va altrove. La zona è molto... Mi pare che ci sia molto traffico e la pista ciclabile è poco protetta perché le macchine che entrano e escono, eccetera, bisogna stare tanto attenti. La manutenzione sulle piste ciclabili, visto che io le uso spesso, quello sì, nel senso che ci sono certi tratti, specialmente più avanti, io le ho contate fra dove comincia la pista ciclabile fino a... sono 80 tombini in una pista ciclabile, quindi beccarli tutti cominciano ad essere un po'...